Ciao a tutti e benvenuti in questo video pronostici degli ottavi di finale di Coppa Italia che si giocheranno un po' sta settimana, un po' la prossima e quindi le prossime, fra 15 giorni in realtà quindi andiamo con ordine, le facciamo tutte in una botta sola quindi avrete tempo di giocarla quando vedrete il video giocherete quelle che non hanno già giocato è un gioco gratis che facciamo ogni settimana 1x2 gol oppure no gol anche in questo caso, anche se sono solo 8 partite, massimo 3 doppie come se fossero 10 perché comunque la Coppa Italia è difficile, abbiamo fatto così anche l'altra volta e va bene così allora per recuperare i risultati che avete giocato l'altra volta vi lascerò sia nella scheda finale che qua durante il video la scheda dell'altro video così andate a recuperarlo come ho fatto io perché obiettivamente nessuno si ricorda cosa ha giocato due mesi fa vi fate un fogliatino come me, sono 8 partite e le recuperate vedete cosa avevate messo nei commenti, dai fate questo sforzo e fatemi sapere come siete andati ovviamente è un gioco gratis, si gioca per la gloria se non mi seguite iscrivetevi al canale, tiratevi al campionino, metti un piacere e commentate questo è un canale che parla, stavolta ho detto bene, di Serie A, Serie B, Coppa Italia, Nazionale, Coppa Europea calciomercato, Atalanta e chi più ne ha più ne metta quindi iscrivetemi, fatemi arrivare all'obiettivo 5000 il mio compleanno è fra 11 giorni, mi fate un bel regalo, impossibile, lo so anch'io fare 700 iscritti in 10 giorni è impossibile ma entro gennaio mi piacerebbe, entro gennaio vuol dire a sto punto anche compreso tutto gennaio cerco di darvi un po' di più di tempo quindi se invece siete già iscritti, tanti like che mi aiutate con l'algoritmo non vi costa nulla, due secondi, un likechino se volete perdere un minuto vi ringrazio e commentate anche e giocate con me io sono molto ben più felice se lasciate sia like che commento se avete poco tempo guardate il video, lasciate solo il like, mi fate comunque piacere è gratis, non vi costa nulla e io vi ringrazio davvero tanto andiamo, allora l'altra volta avevo detto Lecce Sassuolo X tra l'altro dovete dire anche chi passa il turno ok? perché ci sono i supplementi, cioè nel senso eliminazione diretta, ok? come abbiamo fatto l'altra volta quindi io avevo detto Lecce Sassuolo X ma che passava il Sassuolo cosa ho preso? ho preso il passaggio del turno del Sassuolo ma non il 2 perché è uscito 2, avevo detto X quindi ne conto una, ok? che è il passaggio del turno Cagliari Cremonese, quindi qui potete contare 1 o 2 punti in base a quello che avete appunto detto Cagliari Cremonese avevo detto X, invece è uscito 1 quindi l'ho sbagliata e avevo detto anche che passava la Cremonese quindi doppio no, quindi 0 anche qui Torino Empoli, no anche qui, sopra 1 o meno l'ho fatto Torino Empoli avevo detto gol e passaggio del turno del Torino gol c'è stato e passaggio del turno c'è stato quindi siamo già a 3 ma tanto faccio poco, non è che faccio tanto di più poi Pisa Cesena avevo detto 1x è uscito il 2, è sbagliato in pieno è passaggio del turno appunto del Pisa e quindi cannato tutte e due anche qui Udinese Serenitana avevo detto 1x preso perché è uscito l'1 e preso perché avevo detto che passava l'Udinese quindi doppio punto Genoa Sampdoria avevo detto 1x X l'ho preso, scusatemi, ma è passata la Sampdoria e Rigori quindi il passaggio l'ho preso, il risultato no Monza Brescia avevo detto 2, invece no e passava anche il Brescia, secondo me ovviamente finendo 2 e 2 no quindi è uscito 1, quindi ha vinto il Monza non ho preso né il passaggio né la vittoria del Brescia Napoli-Palermo avevo detto 1 che passava anche il Napoli quindi sì, sì quindi andandole a contare Sassuolo 1 Torino-Empoli sia il gol che il passaggio quindi 2-3 poi ho fatto 5 con l'Udinese prendendo sia il risultato sia chi passava il turno nel Genoa ho preso solo il pareggio poi 2 no qua e Napoli-Palermo 2 sì quindi 2-3-5-7-8 per il Monza 8 su 8 ma ovviamente vanno divise in base al passaggio del turno e appunto punteggi quindi fatemi sapere quante ne avete prese come passaggio del turno e quante ne avete prese come appunto risultato e se avete fatto come me in alcune prendendo entrambe le cose andiamo con quelle di questa settimana si parte con Bologna-Monza non vi dico oggi o domani perché non so ancora quando uscirà questo video Bologna-Monza ore 18.30 3.12 per me è un 1 e passa anche il Bologna quindi 1 e passaggio del turno del Bologna poi c'è Milan-Sassuolo una sfida interessante ragazzi perché il Milan comunque ha delle cadute spesso e volentieri inaspettate e il Sassuolo sta facendo veramente un bel campionato in serie B quindi io penso che possa anche finire 1x nel senso ci metto anche l'x e che passa il Milan ok? questo è appunto il 3-12 poi il 4 dicembre invece c'è Fiorentina-Empoli che nonostante ciò che è successo a Bove Bove stesso ha chiesto di tanti auguri di pronta guarigione mi raccomando Edo non guarderà mai questo video ma io lo dico Fiorentina-Empoli appunto lo stesso Bove ha chiesto che venga giocata e quindi si giocherà Fiorentina-Empoli per me è un 1 e passaggio del turno della Fiorentina Lazio-Napoli la sfida più interessante di questi ottavi di finale sicuramente Lazio-Napoli per me è un x2 perché Napoli ha solo questa coppa qui e per me la vorrà vincere nonostante la Lazio sia forte x2 e passaggio del turno del Napoli per me quindi ho già giocato due doppie Juventus-Cagliari per me è un 1 e passa la Juve quindi non pareggia anche questa qui la Juve tra l'altro è uscito anche il video recap di serie B se mi va andatelo a vedere è uscito il pre-partita con Simone Simoncigno per Roma-Atalanta quando vedrete il video non so se è già uscito o no il post-partita di Roma-Atalanta ci va in base un po' ai miei turni Juve-Cagliari come dicevo 1 e passaggio del turno della Juve Atalanta-Cesena prego visto che sono di Ravenna e la squadra che ho di più dopo il Brescia è il Cesena che l'Atalanta faccia il suo dovere queste partite sono il 17 e il 18 mi raccomando non l'ho detto prima Lazio-Napoli c'è il 5 invece il 17 e il 18 dicembre Atalanta-Cesena appunto il 18 dicembre alle 6 e mezza 1 e passaggio del turno dell'Atalanta Roma-Sandoria per me è un 1x perché non lo so perché però la terza doppia va giocata e io me la gioco qui Roma-Sandoria 1x e passaggio del turno della Roma Inter-Udinese per me è un 1 e il passaggio del turno dell'Inter questo è quanto anche voi dai ve lo lascio qua in descrizione veramente impiegate pochissimo andate a vedere cosa avevate detto l'altra volta guardate i risultati andate in qualsiasi sito diretta eccetera eccetera non posso dirli perché se no faccio pubblicità comunque i siti dove ci sono risultati di calcio recuperate i 32esimi che in realtà poi erano gli 16esimi che poi in realtà erano gli ottavi perché erano 8 squadre che poi diventano 8 non si capisce un cazzo il formato più schifoso ce l'abbiamo in Italia continuerò a dire questa cosa e insisto finché non vengono riammesse come una volta quelle di C di B già dalla A già direttamente ad agosto che è bellissima tutte però tutte tranne magari le ultime due ecco possiamo fare due finaliste dagli ottavi ecco così mi sta anche bene ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale attivatevi al canale mi ti piace guardatevi commentate ci vediamo con tutti gli altri video attivate quella campanella quel campanaccio bam badim badabam così non perdete nessun mio video mettete tanti like così mi aiutate con l'algoritmo iscrivetevi se non siete iscritti è un canale che parla di calcio a 360 gradi andate a vedere il cap di via andate a vedere quello che vi pare guardate questo giocate con me vi voglio bene ci vediamo presto la vostra volta ciao